diritto del lavoro video lezione numero 34 aggiornamento al 15 gennaio 2019 in attesa della pubblicazione e della conversione legge del provvedimento del governo che istituisce il reddito di cittadinanza e la riforma pensionistica cosiddetta quota 100 superamento della legge fornero in questa video lezione tratterò i seguenti argomenti il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti aggiornato alla sentenza numero 194 del 2018 della corte costituzionale legge di bilancio del 2019 la nuova disciplina dei voucher il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti io già ho sviluppato questo argomento all'interno delle video lezioni ma lo riprendo giusto per segnalare i nuovi aggiornamenti operati dalla sentenza della corte costituzionale quindi con il decreto legislativo numero 23 del 2015 in attuazione del jobs act è stato introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti il catuc rappresenta la nuova veste contrattuale con cui devono essere costituite nell'ambito privato tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015 il catuc è un normale contratto di lavoro subordinato che ha come peculiarità un diverso regime di tutela in materia di licenziamenti illegittimi la nuova disciplina del licenziamento è caratterizzata non più dalla reintegrazione nel posto di lavoro ma in una corresponsione di un'indennità di tipo monetario il cui importo è parametrato all'anzianità di servizio del lavoratore licenziato entro comunque determinati limiti massimi in ogni caso l'indennità non potrà essere inferiore a 6 mensilità né potrà superare le 36 mensilità questo limite è stato aumentato dal decreto dignità in questo modo nelle intenzioni del legislatore il licenziamento illegittimo viene reso più oneroso per i datori di lavoro tuttavia è intervenuta la corte costituzionale con la sentenza numero 194 del 2018 stabilendo che è incostituzionale il criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all'anzianità di servizio previsto dal decreto legislativo numero 23 del 2015 è confermato dal cosiddetto decreto dignità del 2018 il meccanismo di quantificazione e cioè un importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio rende infatti l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità così da farle assumere i connotati di una liquidazione forfettizzata e standardizzata del danno derivante al lavoratore dall'ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato pertanto il giudice nell'esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti minimo quindi 4 ora 6 mensilità e massimo 36 mensilità prima era 24 dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità dovrà tener conto non solo dell'anzianità di servizio ma anche degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dell'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti e cioè numero dei dipendenti occupati dimensioni dell'attività economica comportamento e condizione delle parti legge di bilancio per il 2019 le novità in materia di lavoro questo paragrafo è tratto da un articolo di salazar legge di bilancio per il 2019 le novità in materia di lavoro tratto dalla banca dati utet pluris 2019 quindi dicevamo la legge numero 145 del 2018 innova diverse branche del diritto in campo lavoristico più significative sono alcune disposizioni di una certa utilità pratica le quali possono essere raggruppate sotto tre grosse direttrici la prima sostegno all'occupazione e misura di agevolazione alle assunzioni seconda sostegno alla genitorialità e alla famiglia terzo gruppo sviluppo economico per quanto concerne il sostegno all'occupazione con riguardo al primo ambito spicca è innanzitutto un rafforzamento strutturale di molti settori della pubblica amministrazione e degli enti locali attraverso una generalizzata previsione di assunzioni ovvero della stabilizzazione di personale precario o non di ruolo i settori toccati dalla previsione di rafforzamento degli organici sono ad esempio quello della scuola dell'università dei ministeri dei tribunali amministrativi regionali istituti penitenziari e quant'altro nella legge è stato altresì previsto l'incremento delle misure di contrasto al lavoro irregolare attraverso l'aumento delle sanzioni previste in caso di lavoro nero e anche attraverso il potenziamento degli organici dell'ispettorato nazionale del lavoro nella legge di bilancio 2018 è stata disposta la proroga dell'incentivo per l'occupazione al sud e la nuova misura dell'esonero contributivo destinata all'assunzione con contratto a tempo indeterminato delle giovani eccellenze è stato previsto altresì l'agevolazione collegata con i progetti di reinserimento mirato e conservazione del posto di lavoro per i disabili prevista nella forma di un rimborso da parte dell'INAIL di una quota percentuale delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro fino a un massimo di 12 mesi nonché una limitata proroga degli ammortizzatori e della mobilità in deroga sostegno alla genitorialità la legge di bilancio 2019 ha previsto il rifinanziamento del fondo per le politiche della famiglia già previsto dalla legge 296 del 2006 tale fondo per anni ha realizzato l'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di diversi progetti di conciliazione vita lavoro così come previsti all'articolo 9 della legge 53 del 2000 il legislatore ha inoltre prorogato e potenziato la posizione del padre lavoratore che gode ora di cinque giorni invece di quattro di congedo obbligatorio di paternità restando fermo il giorno in più di concedo facoltativo e introduce importanti modifiche in materia di tutela della maternità tra cui la possibilità di utilizzare tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bambino mediante riconoscimento alle lavoratrici della possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente entro i cinque mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con permesso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione a tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro sviluppo economico per quanto riguarda l'innovazione lo sviluppo economico si segnalano nella legge di bilancio le misure fiscali legate alla posizione delle persone fisiche esercenti imprese e professioni ovvero il regime forfettario e la flat tax il credito d'imposta per la formazione 4.0 la detassazione per i nuovi investimenti la revisione delle tariffe in aile che si tradurrà in un risparmio dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il contributo a fondo perduto nella forma di voucher per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzati finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali organizzativi dell'impresa compreso l'accesso ai mercati finanziari dei capitali la legge 145 del 2018 ha previsto altresì il fenomeno il fenomeno di ulteriori misure in materia di pensione di reggito di cittadinanza demandando nella concreta attuazione a provvedimenti successivi i voucher il decreto legge numero 25 del 2017 ha disposto all'articolo 1 comma primo l'abrogazione degli articoli 48 49 e 50 del decreto legislativo 81 del 2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio dunque i voucher richiesti alla data del 17 marzo 2017 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 il sistema del lavoro accessorio consentiva fino al 31 dicembre 2017 a tutti i soggetti di impiegare qualsiasi tipologia di lavoratore per svolgere differenti attività lavorative per beneficiare delle prestazioni lavorative il committente fino al 17 marzo 2017 poteva comprare preventivamente dei buoni lavoro o voucher attraverso cui commissionare l'attività lavorativa e retribuire il lavoratore successivamente la legge numero 96 2017 ha creato appunto questa legge due diversi strumenti di voucher a seconda della natura professionale o meno del committente il libretto famiglia per i soggetti non professionali e il contratto di prestazione occasionale per le piccole imprese e i professionisti per entrambi gli istituti viene fissato un limite di 5.000 euro come tetto massimo di compensi e di 2.500 euro da ogni singolo datore di lavoro per un totale di 4 ore continuativa al giorno per prestazione il limite di 5.000 euro sale a 6.250 se la prestazione viene da pensionati giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o l'università disoccupati per settori di reddito di incursione o di altri sussidi di sostegno il committente non può comunque avvalersi di lavoratori con cui abbia in corso altro rapporto oppure un rapporto cessato da meno di sei mesi il lavoratore infine ha diritto al riposo giornaliero alle pause a riposi settimanali previsti dalla normativa vigente di riferimento il libretto famiglia si tratta di un libretto normativo prefinanziato dove vengono caricate le somme poi da spendere esclusivamente per le seguenti prestazioni piccoli lavori domestici assistenza domiciliare ai bambini alle persone anziane ammalate con o con disabilità ripetizioni scolastiche può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica inps oppure presso gli uffici postali il valore nominale di un'ora di lavoro è fissato in 10 euro che sarebbero 12 euro l'orde a carico del lavoratore infatti ci sono i contributi alla gestione separata inps e l'assicurazione in aile contro gli infortuni tale compensi sono esenti da imposizione fiscale non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione del lavoratore e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno contratto di prestazione occasionale tale contratto è il voucher dedicato alle imprese è vietato ma solo parzialmente in agricoltura dove gode di una propria disciplina di fatti in ambito agricolo è consentito il voucher solo alle imprese agricole che non occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato è vietato altresì nelle miniere cave torbiere nelle attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nell'ambito dell'esecuzione di appalti è vietato e nelle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato il valore minimo orario nel voucher è di 9 euro netti difatti i contributi e in aile sono a carico del committente nella misura rispettivamente pari al 33 per cento inps e 3,5 per cento in aile da applicare i compensi all'ordo sanzioni nel caso di superamento del tetto di reddito pari a 2500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato se si violano gli obblighi di comunicazione scatta la sanzione amministrativa da 500 euro a 2500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione dal primo gennaio 2019 entrata in vigore la disciplina iva voucher infatti con il decreto legislativo numero 141 del 2018 attuativo della direttiva numero 1065 del 2016 dell'unione europea pubblicato nella gazzetta ufficiale 28 dicembre 2018 viene disciplinato il trattamento iva dei buoni acquisto monouso e molti uso le nuove regole si applicano ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 per i buoni emessi fino a tale data resta invece valido il trattamento iva individuato nei documenti di prassi emessi dall'agenzia delle entrate il decreto legislativo 141 del 2018 modificando il dpr 633 del 72 ha disciplinato il trattamento dei nuovi voucher propriamente definitivi della stessa norma buoni corrispettivo quindi questi voucher vengono chiamati di fatto oggi buoni corrispettivo per un buono corrispettivo ai sensi del nuovo articolo 6 bis del dpr 633 del 72 si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi che indica sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione i beni o i servizi da cedere o prestare o l'identità dei potenziali cedenti o prestatori ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative identificato il genus il legislatore è passato a definire la species ovvero ha reso la definizione di buono monouso e di buono multiuso la distinzione tra i due tipi si fonda sulla conoscenza o meno alla data della loro emissione delle informazioni necessarie per la loro tassazione la base imponibile in caso di cessione di buoni monouso e multiuso è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono fermo restando la possibilità di fare riferimento per i soli buoni multiuso al valore facciale se non si conosce il valore pagato per l'acquisto degli stessi